Non abituatevi a questa guerra, non smettete di aiutare l'Ucraina e i suoi profughi, sono alcune delle parole pronunciate in occasione della giornata per la pace organizzata dalla comunità di St. Egidio a Pavia da Valentina Curilo, una donna ucraina che vive in città da alcuni anni e che ha raccontato della fuga della figlia e del nipote che si sono rifugiati qui dopo lo scoppio della guerra. L'iniziativa promossa dalla diocesi di Pavia è stata un momento di preghiera e riflessione iniziata nella chiesa di Santa Maria del Carmine e proseguita poi con la marcia per le vie del centro storico fino ad arrivare in Duomo dove si è tenuta la celebrazione presieduta dal vescovo Corrado Sanguinetti. La giornata ha voluto riportare l'attenzione sul conflitto ucraino visto che dopo i primi mesi di grande mobilitazione si è verificato un forte calo dell'attenzione e della solidarietà verso il paese e la sua popolazione ma anche sui troppi conflitti dimenticati che ugualmente a quello ucraino provocano vittime e disperazione fra i popoli come accade oggi per esempio in Yemen ed è accaduto soltanto ieri con conseguenze però tragiche che perdurano in Afghanistan, Libia e Iraq.